In generale adesso cercano di impegnarsi a fare il possibile per migliorare l'Argenta, nel limite del possibile, alcune cose le hanno fatte bene, altre cose dovrebbero impegnarsi di più e realizzare qualcosa di meglio, soprattutto per noi giovani. Ultimamente ho visto che dei lavori sul territorio argentano ne hanno fatti, anche solo per i ragazzi nella zona industriale, hanno fatto la loro pista da scherzole e non mi sembra roba da poco. È meglio non parlarne, dai, ma non saprei, è meglio che non dica niente. Ma sì, per i giovani niente, per i giovani non fa proprio niente, perché il giovane deve lavorare, non gli anziani, perché il più anziano che va a lavorare nero, che il giovane che va a lavorare il suo avere, e basta, solo quello lì. La politica argentana è un po' allo sfascio, determinato dalla costruttore che è politica quattro anni fa, questo è l'elemente di fondo per quello che è la politica economica argentana. Non fanno niente, non saprei cosa dirti. Il sinistro mi piace, il destro no. I nostri direi di sì, gli altri non lo so. E dalla politica argentana, per me, io non lo so, per me va bene. La politica argentana la considero zero, da tutti i lati, e poi non sono un gran politicante io, non mi piace la politica, come la stanno facendo? La politica argentana, non so, non lo metterasso di politica. La politica argentana, non so, non lo metterasso di politica.